Ok Nintendari, benvenuti tutti, prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i buonissimi video, ma ora toccate Matteo. Ok ci siamo per andare a giocare a un nuovo gioco, abbiamo visto la versione normale e adesso è uscita per Nintendo Switch la versione pizzellata, Ultra and Age. Allora questa è la versione pizzellata di Beats Arc, che è quello che avete visto l'altra volta è uno stile tipo Minecraft, però non è. Aspettate un attimo, non so cosa ha fatto, c'è bloccato? Ah ok, apre un canale a parte. Mettiamo Si ci piega un po' ma non è male come gioco. E' un gioco che è arrivato oggi su Nintendo Switch e c'è qualche cosa di nuovo, vedremo, qualche cosa faranno vedere, è tutto quadrettato. Forse è più bello dell'altro, questo fate il vostro avatar. Allora incominciamo dal nostro avatar. Allora incominciamo da qua, vediamo un po' cosa si vede. Abbiamo tre cose, cosa possiamo mettere? Quello? Questo? O questo? Ma quello lo ho? Questo che sta bene? I capelli non in centrale, così. Buffo! Aspettate perché non li... Ah ok, così. Così fa proprio frate, così normale. Beh, così va bene. Ah no, vabbè. Si, da un po' l'assemblianza da vecchio, però... No, 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 va bene così. Solamente che le ciglia non mi piacciono. Così è arrabbiato. Ok, la barba gliela togliamo. Io ne metterai neanche. Spalviero! No, 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 no. Oh no. Non si può non mettere. Pizzetto? Vabbè, usiamo il pizzetto. Beh, adesso qualche cosa assomiglia. Ok. Beh, allora, adesso mi dovrebbe dare il corpo. Ok. Allora, cominciamo dalla... Dovrebbe essere testa. Più piccola. C'è le mani un po' più piccole, cacchio. Ok, il nome le diamo sempre. Teo. Carica. E adesso iniziamo la vera, vera, vera storia. La storia. Più che altro iniziamo in questo paesino qua. Guardate, col... Ok, questo è molto meglio dell'altro. L'altro si bloccava molto. Uh, chi è? Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. E adesso... Non mi punto. Chi piccola. Oh, no. non so come prendere le cose ma stanno arrivando un sacco di animali che non capisco perché ah possiamo cavalcarli ah con la itz mi dicono dobbiamo capire se davvero con la itz beh ragazzi come avete potuto vedere qua allora allora non 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 Si va un po' a scatti ragazzi capisco Ah ok ora ho preso qualcosa Ok bene 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 ragazzi avete visto un pezzo dobbiamo ancora un po' sperimentarlo Poi vedrete tutto su Twitch Bene allora da qua vi faccio vedere solo una cosa per poi rimandare Ok grazie di averci seguito ci vediamo alla prossima Sempre con questo gioco qua guardate su Twitch perché continueremo tutti assieme Sempre e soltanto Nintendo tocca a te Seguici anche su Twitch per continuare a vedere questo gioco come va a finire E ricordati che ce ne saranno altri per cui iscriviti Oh ma dai hai finito il video ci vediamo alla prossima Sempre e soltanto Nintendari Ciao 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 Ciao